Allora hai detto che l'isola è un po' come la strada ed è lei a decidere chi è il capitano quindi potresti magari essere tu, ti senti pronto? Lo dirà la strada? In questo caso l'isola, allora la tua ragazza Cecilia ha già fatto l'isola ti ha dato magari dei consigli, ti ha detto qualcosa? Il consiglio me l'ha dato, sì Si, però la Cecilia si lamenta un po' troppo quindi non so quanto sono affidabili i suoi consigli Vabbè, fai di testa tua che non sbagli mai Allora ti aspettiamo tutti, l'isola ha bisogno soprattutto di coraggio quindi non pensarci, buttati, tuffati nelle acque dell'Honduras e raggiungi pure la playa L'elicottero, eh sì l'elicottero, la cuffia Ah ma vestito si butta Vai Ignazio E là